Cinque anni di lotte vertense, ma finalmente c'è un risultato. Sono stati definiti illegittimi anche in Cassazione i licenziamenti di alcuni ricercatori e ricercatrici della Intex, rappresentati dall'avvocato della CGL Francesca Ramicone, che è riuscita a smontare la tesi dell'azienda. Purtroppo però, nonostante le sentenze, il danno dei lavoratori è irreparabile. Questi non riusciranno, a causa del fallimento dei debiti ingenti dell'azienda, a recuperare le somme loro riconosciute dalla giustizia. Di qui l'invito alle istituzioni dei sindacati, affinché non permettano più a soggetti imprenditoriali così di entrare in città e creare queste situazioni. La storia è lunga, perché 70 ricercatori furono licenziati nel dicembre del 2017 dall'azienda. Intex, nel 2017, ha deciso di chiudere il centro di ricerca e sviluppo dell'Aquila. Tornando indietro nel tempo, nel 2011, Intex Acquisit Technolabs, nel 2014, Intex SPA, si scinde in due compagnie, una virtuosa e l'altra già nata in sofferenza economica. Nel 2016, vista la situazione, iniziò pure un confronto con le istituzioni, si cercò un percorso con la spesa economica, ma nulla di fatto, e poi il licenziamento, che per i lavoratori non ha neanche seguito le procedure di legge. I giudici hanno detto ragione, alla fine, ma rimane l'amaro in bocca per la sorte di Benz e tanta famiglie. Rimane il danno concreto, cioè che è quello di non riuscire a recuperare le somme dovute, perché nel frattempo è intercorso il fallimento dell'azienda per i fortissimi debiti che erano stati contratti. Quindi, peraltro, quel licenziamento che era stato inizialmente spiegato, diciamo così, dall'azienda come un modo per rilanciare, in realtà non è servito assolutamente a nulla, anzi probabilmente è stato anche controproducente, perché l'azienda si è privata di quelle competenze, di quelle professionalità. Al danno del licenziamento si è, purtroppo, aggiunto anche quello determinato dall'Inps, che ad un certo punto ha interrotto l'erogazione della disoccupazione e addirittura ha richiesto indietro le somme richieste. Anche su quello siamo dovuti andare per le vie legali e anche su quel fronte i lavoratori hanno avuto ragione, grazie naturalmente al supporto dei legali della CGL.